Allora, adesso stiamo andando a Milano e andiamo a parlare di un argomento davvero interessante che è la nutrizione e il sonno. Lo facciamo con Francesco Avaldi. Ci sei Francesco? Sei con noi. Francesco ci senti? Ci sono. Buongiorno Francesco, come stai? Buongiorno, bene, tu come stai? Molto bene, siamo quasi alle 5 ore di diretta. Ti faccio i complimenti per la costanza. Grazie, ma i complimenti vanno fatti veramente a tutto lo staff, alla regia, all'organizzazione e anche a tutti i relatori e gli organizzatori di ogni singola isola che abbiamo costruito all'interno di tutto lo stivale italiano. Nello specifico Francesco con te parleremo di un argomento davvero interessante. Innanzitutto la tua specifica è proprio in ambito particolarmente calcistico, giusto? Milan, Real Madrid, Atalanta, PSG e poi leggo anche nel nuoto collaborando alla preparazione di alcuni nuotatori per i giochi olimpici che ci sono stati a Rio, giusto? Esatto, esatto. Nell'intervento parlerai di come appunto un riposo corretto ci possa influenzare nel recupero, nella performance e tante altre cose. Senza che vado oltre, lascio a te il palco virtuale e lo schermo. Francesco Avaldi. Ok. Buongiorno a tutti, un caro saluto alla Sardegna, a Gianmario Vigliaccio che mi ha invitato per questo evento eccezionale. Come ha già proposto l'argomento è quello della nutrizione e ovviamente di come la nutrizione può influenzare il sonno e di conseguenza anche la performance degli atleti. Nel corso degli anni, come vedete, il numero delle pubblicazioni su PubMed è aumentato in maniera vertiginosa, semplicemente mettendo dentro delle parole chiave come il sonno e come l'atleta. Vedete che a partire dal 2000, quando praticamente le pubblicazioni erano pochissime, dal punto di vista proprio delle pubblicazioni legate a questo argomento sono aumentate proprio in maniera, come dicevo prima, esponenziale. Io con Gianmario ho condiviso un'esperienza che secondo me è stata proprio propedeutica per poi come ho continuato io questo mio percorso, che è stato quello di praticamente preparare dei nuotatori alle Olimpiadi di Rio. Alle Olimpiadi di Rio le gare di nuoto, per problemi anche legati ovviamente alla Mondovisione, erano state programmate nelle ore serali, se non addirittura notturne. E mi ricordo che con lui e con Johnny Padulo, che saluto e che sarà anche lui presente a questo bellissimo congresso virtuale, avevamo proprio programmato una serie di allenamenti che è durato circa una quindicina di giorni, programmando appunto gli allenamenti nelle ore serali. Alla fine di questa piccola esperienza, che poi è stata anche uno studio pilota presentato in un congresso internazionale, abbiamo constatato che più si andava avanti in questo tipo di percorso di allenamenti serali e più in effetti la performance di questi atleti si riduceva e si riduceva anche proprio la possibilità e la qualità del recupero di questi stessi atleti e in prima battuta facendo proprio un'attenta valutazione di come era la qualità del sonno, si vedeva appunto che proprio la qualità del sonno più peggiorava e più in effetti l'atleta si dimostrava stanco, non riusciva a rendere in allenamento come aveva sempre normalmente fatto, scambiava addirittura anche l'umore. Praticamente vedevamo in questo atleta, negli atleti che stavamo valutando, proprio un cambiamento di quelle che erano proprio le loro abitudini, se di vita che anche ovviamente in vasca. E quello che abbiamo preso in considerazione è il fatto che in effetti noi dobbiamo rendere un po' conto sempre a quello che sono i nostri ritmi fisiologici, a quelli che sono i nostri ritmi cosiddetti circadiani. Non dobbiamo essere ovviamente, come dire, prigionieri di questi ritmi che voi vedete nella slide, ma dobbiamo sempre prendere in considerazione che in effetti dobbiamo rendere conto a questi ritmi e dobbiamo anche cercare con degli opportuni cambiamenti, sia da un punto di vista proprio di allenamento, sia da un punto di vista anche ovviamente di nutrizione, dobbiamo cercare di modificare questi nostri ritmi biologici e andare in conto a quelle che appunto sono le nostre esigenze. E vorrei a questo punto citare, proprio per il discorso legato alla nutrizione, che poi è il campo principale di mio interesse nel campo dello sport, è proprio il fatto di, volevo citare questo articolo molto interessante segnalato dal professor Rugo Faraguna dell'Università di Pisa, uno dei massimi esperti sulla qualità del sonno e su come il sonno incide poi proprio sulla performance e sulla anche composizione corporea dell'atleta stesso. In questo articolo appunto molto interessante, veniva proprio presentato un studio scientifico a livello ovviamente animale su delle cavie, in cui si vedeva appunto che la perdita di sonno indotta in queste cavie creava un aumento dei radicali liberi all'interno del nostro intestino che portava poi proprio al decesso di queste cavie di laboratorio. È chiaro che il nostro sistema di adattamento non è possibile essere, non è ovviamente riferibile alle cavie di laboratorio, però in effetti pensare come una qualità del sonno non corretta possa poi aumentare i radicali liberi all'interno del nostro intestino e noi sappiamo benissimo come i radicali liberi possono inficiare un aumento eccessivo dei radicali liberi, possono inficiare la performance e il recupero dell'atleta stesso, ci deve far pensare molto accuratamente a come in effetti la nutrizione può determinare una situazione di stress eccessivo a carico dell'atleta e come la nutrizione stessa poi in effetti può inficiare non solamente al quadro del sonno ma di conseguenza anche la capacità di recupero e la capacità di performance del nostro atleta. Proprio per questa ragione volevo far vedere questa review molto interessante in cui si vede appunto come ci possono essere dei piccoli trucchi, chiamiamoli così, in cui poter inserire, poter cambiare anche quella che è l'alimentazione del nostro atleta nel momento in cui il nostro atleta deve fare un'attività fisica nelle ore serali. La mia esperienza nel calcio è stata molto significativa sotto questo aspetto perché ho potuto poi capire che la ricerca scientifica mi poteva dare una mano da applicare anche sul campo in maniera abbastanza semplice modificando quelle che sono proprio le cene nel momento in cui l'atleta ad esempio si fa un'attività fisica nelle ore serali come succede proprio per i calciatori perché molto spesso giocano tardi nella serata verso le nove e abbiamo visto in precedenza proprio nella nostra cronobiologia, nella slide che vede proprio la cronobiologia, alle nove inizia ad essere secreto l'ormone melatonina che è quello che ci permette di indurre il dure sonno. Vede quindi che una cena ricca di carboidrati per la concentrazione molto alta di triptofano, triptofano che è precursore della serotonina e di conseguenza precursore della melatonina, deve essere considerato quindi carboidrati ad alto indice glicemico, altri alimenti che sono ricchi di triptofano, il pollo, il tacchino, il pesce, le uova, la frutta secca, alcuni tipi di formaggio e anche le verdure a foglia verde, le stesse amarene o meglio ancora il succo di amarena che contengono un'alta concentrazione di melatonina e un ampio spettro di fenoli che hanno tutta un'azione antinfiammatoria e antiossidante, quindi a maggior ragione quello che abbiamo visto in precedenza, antiossidante, diminuzione dei radici ai liberi a livello dell'intestino e poi anche il kiwi che in effetti è un alimento ricco di serotonina e di altri antiossidanti che ovviamente possono favorire la qualità del sonno. L'altro aspetto fondamentale è quello di poi cercare di capire come l'atleta si deve muovere nel momento in cui affronta un'attività fisica di sera e come è la qualità del sonno, quindi è importante avere una corretta intervista come cita questa pubblicazione scientifica, cercare di capire anche attraverso un questionario, li vedete elencati, come l'atleta dorme e qual è la sua qualità del sonno. Bisogna fare un'attività di monitoraggio che può durare da una o due settimane per capire poi come è la qualità del sonno. Si possono utilizzare degli strumenti, dei device che vengono tranquillamente venduti, che non sono così accurati, altrimenti bisognerebbe rivolgersi alla polisonnografia, ma che è uno strumento molto difficile da reperire e anche difficile proprio per il costo da poter verificare sul campo. E poi ovviamente abbiamo bisogno di un feedback, di una nuova intervista e di capire esattamente poi se il nostro atleta, come la pubblicazione scientifica cita, sta seguendo quelle che sono le nostre indicazioni. Quindi attenzione, quello che diceva in precedenza, la giornalista che ha parlato prima, cercare di avere questo rapporto di empatia con l'atleta diventa quindi di fondamentale importanza per far capire all'atleta che non facciamo queste cose semplicemente per rompergli, come si dice, le palle, scusate il termine, ma in effetti è così, ma semplicemente per far capire all'atleta che questo, un sonno corretto, può ovviamente servire per migliorare la sua qualità del sonno e di conseguenza anche la sua performance. Questo l'abbiamo fatto già anche, mi ricordo all'inizio dell'anno 2000, quando io ho cominciato a collaborare nel Milan con, nel laboratorio Milan Lab, il cosiddetto, e già in quell'occasione quando io ho iniziato a collaborare in questo laboratorio che era praticamente all'avanguardia in quel periodo, già quello, già lì, oltre che a valutare tutti gli aspetti fisico-atletici del nostro atleta e dei nostri giocatori, anche lì si cercava di valutare esattamente com'era la qualità del sonno e anzitutto cercare di intervenire con un'alimentazione più corretta come poi la letteratura scientifica ci può supportare. Quali sono i messaggi da portare a casa dopo questa nostra breve cacchierata, questa carrellata che mi auguro possa esservi utile. Innanzitutto bisogna cercare di andare a dormire non avendo più ovvi di stivoli, quindi non ci devono essere rumori, non ci devono essere suoni e non ci devono essere neanche odori sgradevoli, quindi mi raccomando tenete la camera da letto lontana dalla cucina. Evitare la luce blu, quindi evitare di guardare la televisione, evitare di usare i device come possono essere i pad, i telefono cellulari quando si va a dormire. Tenere una temperatura intorno ai 16-18 gradi nella stanza dove si dorme e soprattutto ventilare anche molto bene la stanza. Il letto nel posto giusto, questo vi consiglio di andare a vedere cosa dice il Feng Shui che è la classica metodica che viene utilizzata in Giappone per cercare di disporre i mobili all'interno della casa in maniera corretta. Ad esempio la testa del letto non deve essere mai al centro della stanza ma deve essere ad esempio appoggiata proprio a una parete per cercare di rendere proprio il soggetto sicuro del suo sonno. Attenzione poi ai calori delle pareti perché in effetti avere una parete rosata o una parete di colore blu può facilitare proprio il sonno e prepararsi all'eperoso notturno vuol dire anche alimentarsi in maniera corretta come abbiamo visto prima e se è possibile cercare di evitare un'attività fisica intensa, adrenalina, cortisolo che possono poi inficiare la corretta secrezione della menatolina. Con questo io ho concluso, lascio spazio ad eventuali domande o considerazioni. Visto l'orario vi auguro buon appetito e ovviamente se è possibile buon riposo. Grazie Francesco, grazie mille, grazie Francesco, ho preso anche qua, io tutto il giorno caro Francesco che sono sul palco poi mi metto lì e prendo appunti, ho preso appunti anche per il tuo intervento, vediamo, poi domani anche a te ti dirò come sarà andato il mio sonno e tutta la fase che ne consegue. Caro Francesco, grazie mille ancora, un caro saluto. Grazie a voi, arrivederci. Linea alla regia. Grazie a voi, arrivederci.